La manifestazione ha attirato un nutrito di interessato pubblico, che dopo una breve presentazione del tradizionale taglio del nastro alla presenza del sindaco ha affollato le sale della mostra. Nei locali della mostra si possono ammirare stampe fotografiche del cielo realizzate dall'ESO, dal telescopio spaziale Hubble e dai soci del gruppo Astrofili Savonesi. Una sezione dedicata alla storia dei viaggi spaziali con riproduzione dei mezzi che hanno reso possibile la conquista dello spazio e la proiezione di filmati di divulgazione scientifica. Nell'arco della durata della mostra sarà possibile seguire una serie di eventi collaterali curati dal gruppo Astrofili Savonesi. Sabato 28 dicembre 2013, alle ore 16, la relazione Astri e Disastri, Scienza e Cultura Popolare, a cui seguirà la visita guidata al planetario per conoscere le stelle e i loro moti. Lunedì 6 gennaio 2014, alle ore 16, proiezione del film DocuFantasy, al di là della Luna, a cui seguirà l'osservazione guidata della volta celeste con il telescopio sulla passeggiata di Nuali. Grazie a tutti.